L'articolo 9 L'articolo 9 L'articolo 9 L'articolo 9 L'articolo 9 The stairs of the Teatro Machari is a rare example of urban construction of the first 900. No! NOOOOO! Lontano, cerco un bisogno umano Una città rispettata, non fanno in vano E si lo so, mi so solo lamentare Ma guardati tu che non vai ne anche a lavorare, cambiare Ma non il vestito, ma la persona che c'è dentro di te Con un cuore smarrito, sparito In un paese per vecchi, babbicati dentro Fiovi di specchi, immerso nelle gravi Non per te, mostrati, spetto, ne vedo di rago Guardati in più di forma e dimmi tu la vita dov'è Non c'è più, guarda sta città, la tengo stretta a me E tutti di sé, un domani ci... Sucfinato ancora oltre noi Oh noi no 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 Oh noi no 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 Oh noi mai più rubati noi E mai mi rimmo di aspettare Provando a vivere che non vogliamo stare